Poi la numero 130, Gallelli Monica, la numero 168, Liporate Elisabetta, la numero 204, Nordio Claudia, la numero 221, Pistolesi Natascia, la numero 275, Zanetti Roberta, e la numero 299, Ginestri Sara. Ok, allora, passiamo a cento del parco. Quarto, così a destra. Brava, così, così, perfetta. Quarto, di giro a destra. Brava, così, femorale. Quarto, di giro a destra. Quarto, di giro a destra. Quarto, di giro a destra. Grazie. Brava, ruota, ruota, ruota. Brava, così, così, adome. Quarto, di giro a destra. Brava, ragazzi, viro a destra. Grazie, grazie. Brava, così, così. Gliocchio, brava, 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 tiendiamo. Allora, facciamo il primo snitch. Ancora 10, 79, 168. Ancora 10, 79, 178. Brava! Verso i giudici Sara! Così, brava! Così! Così! Perfetto! Allora, switch, 275.204. Switch! Guarda! E di così, brava! E fuori l'aria! Stai l'alto! Gira le gambe! Guarda in giro, destra! Così, addome! Addome il gluteo! Due piedi! Due piedi! Quarto e due piedi! Verso i giudici Sara! Allora, facciamo una camminata fino alla seconda linea. Piano qua! Piano! 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 Noi andiamo al back, brava, letto i giudici, così, 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 così bravo! Allora, cercate di rimanere il piede, la mia, perché c'era il cittadino. Allora, adesso posso sapere. Brava! Tira, tira le gambe! Vieni! 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 Vieni la Musica. Vieni! Ajudici, bravo! Apriti bene, bravo! Apergora le! Quarta missionار testa. Quarta missionare testa. Vieni! Vieni! Brava! Brava! Ok, allora facciamo attimodare i presidenti che ho seminato quattro su una diagonale su tre due ragazze, iniziamo con la vostra team work, mettetevi pure le mani diagonali, quattro di qua e tre di là, o viceversa, inizialmente, ci chiamerò io in un'altra per cui vi fate la vostra camminata individuale a ritmo di musica, partiamo pure, iniziamo la vostra domanda numero 79, con te, la provincia di Cazzo di Zecca, fase di Sia. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 tra poco. Grazie a tutti.